Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto lenti per fotocamera Panasonic HH014 e obiettivo. Con la sua forma, pancake, l'obiettivo Lumix Hore 1 a 4 e 2.5 grammi 14 mm offre un design davvero compatto, oltre ad un peso assolutamente leggero. La sua struttura ottica di alta qualità composta da sei lenti suddivise in cinque gruppi, di cui tre asferiche, per limitare al massimo i fenomeni di distorsione e le aberrazioni cromatiche. In grado di garantire una grande nitidezza fino agli angoli dell'immagine, la Lumix Hore 1 a 4 è un obiettivo polivalente ideale per istantanee foto di paesaggi ed interni grazie alla sua lunghezza focale da 14 mm. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazoniti, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.